da tanto tempo ormai abbiamo capito che il futuro papà o il partner o il marito come vogliamo chiamarlo in gravidanza e soprattutto durante il travaglio il parto e il puerperio non è un accompagnatore e come diciamo noi medici parte del progetto di cura e quindi ci siamo premuniti tutti gli ospedali covid positivi si sono premuniti di garantire al papà l'accesso durante il travaglio il parto e il puerperio con delle precauzioni naturalmente ed eventualmente qualche piccola limitazione la prima precauzione è che se avete un intervento programmato o taglio cesareo o l'induzione del travaglio voi il vostro compagno fate il tampone assieme 48 ore prima tendenzialmente 24 48 ore prima in modo tale da essere sicuri che entrate in ospedale in condizioni diciamo di protezione vostra e degli altri e vi si raccomanda dopo il tampone di non incontrare amici di non andare a feste di non come dire di considerarvi un po una piccola quarantena di un paio di giorni il travaglio del parto il papà può assistere con la mascherina e con quelli che noi chiamiamo dispositivi di protezione individuali adeguati quindi questo è stato garantito anche a marzo anche nei momenti peggiori della pandemia ovviamente il papà veniva ammesso al travaglio e al parto naturalmente quei rarissimi casi in cui la gestante invece è covid positiva e fortemente sintomatica naturalmente questo non è possibile sono eventi rari ma questo non è possibile poi c'è il perperio il perperio anche questo momento molto bello molto delicato però a quel punto avete immaginare un reparto come il nostro ma anche reparti più piccoli con abbiamo 60 letti reparti anche più piccoli di 30 letti 20 letti immaginate di avere 40 papà tutti assieme per esempio ovviamente questo crea un affollamento che è proprio contrario alle regole di prudenza quindi in perperio avrete delle regole di ammissione in fasce orarie e siccome le camere sono a due letti con bagno di regola il letto pari letto dispari accedono in momenti diversi della giornata se per ragioni lavorative non potete lasciare il lavoro la mattina o il pomeriggio abbiamo una fascia oraria dopo le 8 a cui dovrete fare riferimento quindi abbiamo cercato e ci siamo riusciti credo tutelare al massimo la presenza del papà durante il travaglio durante il parto e durante il perperio un altro elemento è la parte di accompagnamento alla gravidanza noi abbiamo come sapete molti ospedali messo in rete i corsi di accompagnamento per evitare delle riunioni di troppe gestanti assieme e a così pure a livello ambulatoriale evitiamo che l'accompagnatore di regola sia con la donna naturalmente ci sono delle situazioni particolari in cui invece la coppia deve essere presente penso ai rarissimi casi in cui ci siano da comunicare delle diagnosi complesse su cui la coppia deve prendere delle decisioni penso a delle situazioni in cui ci sia una patologia da comunicare in cui è bene che l'accompagnatore sia assieme alla propria compagna per prendere delle decisioni per condividere quello che si sta prefigurando nel corso della loro gravidanza per fortuna queste sono cose rare e quindi ci siamo premuniti di consentire anche questo aspetto proprio alla luce del fatto che mentre per gli ospedali in generale dell'adulto si parla di accompagnatori in ostetricia si parla di compagni di partner di padri e quant'altro quindi sono parte del processo di cura e non degli accompagnatori